Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi, dopo un po' di tempo che non vi portavo un po' di moduli e tattiche Sono tornato con un contenuto di questo tipo Infatti, dopo la patch che c'è stata la settimana scorsa Ho deciso di apportare alcuni cambiamenti al mio assetto tecnico-tattico E ci tenevo a condividerli con voi Visto che, come al solito, soprattutto quando passate durante la live Mi chiedete che tattiche stai usando, quali istruzioni, eccetera, eccetera, eccetera Insomma, ci tengo a mostrarvele Quindi, senza ulteriori indugi, passiamo, come al solito, in game E potete subito notare che ci sono stati anche dei cambiamenti alla squadra Rispetto all'ultima volta Ronaldo è digievoluto alla versione IF Che praticamente si presenta con 89 partite giocate e 170 reti Quindi, insomma, parla un po' da sé questa carta Molto più forte dell'IF, secondo me, del base Molto più agile Sinistro che sembra quasi un 5 piede debole Quindi veramente tanta tanta roba Li vale tutti i crediti Gullit è stato sostituito dal buon Patrizio Che non diventi un vizio Che ovviamente, diciamo, non ha la stessa qualità palla al piede Ma in difesa lo si sente di più E comunque, in termini di qualità prezzo Non fa rimpiangere l'assenza del buon Tulipano Nero Gomez È digievoluto anche lui alla versione IF Straconsigliata questa carta, ragazzi Soprattutto se avete uno stile di difesa Un po' più aggressivo E manuale Altrimenti vi consiglio magari un Virgil Sto Rashford purtroppo è ancora qui E Renato a breve Diventerà 84 Perché sto video lo sto registrando Quando non ho ricevuto l'upgrade Mentre ora sicuramente Sarà andata così Per quanto riguarda il modulo in questione Di cui vi voglio parlare oggi È il 442 Un modulo che sapete Diciamo, mi è molto caro Ma sono passato da quello con i mediani Quindi quello tra parentesi due Nuovamente a quello in linea E vi andrò poi a spiegare il perché Passiamo subito a vedere le tattiche Ok? Per quanto riguarda lo stile difensiva Abbiamo, come al solito, equilibrato Equilibrato, ragazzi Lo sapete che per me è la tattica migliore Perché riuscite a gestire voi Quella che è la fase di pressione Quella che è la fase di un po' più difesa passiva Potete fare, insomma, quello che vi pare Senza che il gioco vi si metta, diciamo Tra i piedi con dei preset Che magari possono essere alle volte fastidiosi Per quanto riguarda l'ampiezza Utilizzo 5 In maniera tale da avere una squadra Né troppo stretta né troppo larga Ma, insomma, aperta il giusto In maniera tale da poter, insomma, coprire Anche quelle che sono le fasce Dagli esterni avversari Per quanto riguarda profondità Invece sono tornato ad una profondità 7 E il motivo, ve lo ribadisco Il motivo per il quale io adoro profondità 7 È il fatto che vanno a spammare in automatico La trappola del fuorigioco E lo fanno con un tempismo perfetto Quindi io trovo che questa piccola cosa Sia veramente fondamentale Vi dà una mano incredibile Soprattutto quando magari voi state tenendo un mediano E l'attaccante avversario da dentro l'area Esce fuori dando la palla Vi spammano da solo il fuorigioco E secondo me è un aiuto incredibile Quindi per me equilibrato Ampiezza 5, profondità 7 È un'ottima combo Per quanto riguarda lo stile d'attacco Utilizzo anche qui equilibrato Per più o meno la stessa ragione della difesa Come vi ho detto 800.000 volte E in questo caso vado ad utilizzare Ampiezza 5 Perché chiaramente il 4-4-2 È un modulo che richiede Di giocare sulle fasce Ma non voglio aprire troppo la squadra Perché voglio che comunque Le mie punte siano abbastanza vicine tra di loro Per sfruttare appunto la possibilità di scambiare Con 1-2 rapidi E così come non voglio che vi sia Un'eccessiva distanza Anche tra i due cc e gli esterni Per quanto riguarda giocatori in area Utilizzo 5 Quindi un parametro molto standard Perché comunque voglio che l'azione Si vada a sviluppare più fuori dall'area Per poi arrivare dentro l'area E colpire al momento giusto Angoli 2-2 Giusto per arrivare Ad evitare spiacevoli contropiedi E vi dicevo sono ripassato a questo modulo Perché con la patch e il rallentamento Che c'è stato nel gameplay Ritengo fondamentale Una manovra un po' più ragionata E che richieda l'assistenza Da parte dei Da parte dei centrocampisti Quindi Anche se magari abbiamo in questo caso Un via Raga non è così forte Palla al piede Il resto è compensato dal buon Sanchez Che fa benissimo entrambe le due fasi E dà una grossa mano Quindi Per accorciare tra attacco e centrocampo Secondo me Ottima avere i centrocampisti in linea Con questo tipo di gameplay Per quanto riguarda invece le istruzioni Anche qui abbiamo delle piccole novità Nel senso che Per quanto riguarda i terzini Come al solito Abbiamo il tipico resta dietro in attacco E fin qua non ci stupiamo di niente La prima e vera novità Arriva qui Su Patrick Sul centrocampo Non su Patrick Vieira Perché ha sempre restato dietro in attacco E copertura al centro Per quanto riguarda invece Renatiello Sanchez Abbiamo resta dietro in attacco Copertura al centro Ma entra in area per il cross Entra in area per il cross Raga perché ce lo sono andato a mettere? Perché spesso e volentieri capita Che arrivo sulla fascia Torno indietro Cerco il supporto di un qualcuno Che in realtà non c'è Sappiamo che nel 4-4-2 Rispetto magari al 4-2-3-1 Manca l'aiuto del COC Che è un aiuto fondamentale Quindi mettendo in area per il cross Io in qualche modo Cerco di far avvicinare Renato In maniera un po' più automatica All'area avversaria In maniera tale da darmi una mano In fase offensiva Di fatti sto Renato Comunque mi finalizza E ha fatto anche abbastanza assist Per quanto riguarda gli esterni Invece abbiamo Come al solito Base Quindi non gli metto Alcun tipo di istruzione Per quanto riguarda i due attaccanti Abbiamo inserisciti alle spalle E basta Tuttavia Ho provato In qualche match Un'impostazione esotica Ossia Rimani in avanti a Cristiano Ronaldo E rientra in difesa A Kylian Bappé Quindi diciamo che uno Fa un po' più di riferimento Un altro viene a dare un po' più Una mano In partite soprattutto Dove magari l'avversario è bravo E volete un aiuto in più Può essere una giocata Che ci sta Altrimenti lasciate tranquillamente Supporto in difesa base Se vi serve di Rincorrere il giocatore avversario Con l'attaccante Semplicemente lo andate a selezionare E lo rincorrete Devo dire che sto modulo Da quando l'ho rimesso Mi ha ridato un po' di brio Perché con il 4-4-2 Comediani Stavo iniziando a fare un po' di fatica Con sta lentezza Spesso e volentieri In uscita Perdevo un sacco di palle Perché i reparti Mi si erano scollati Quindi Ho deciso di ritornare A questo schieramento qua E devo dire che al momento La sinfonia È di quelle gradevoli Tra l'altro ne approfitto Per fare anche una cosa con voi Altrimenti mi dimenticherò sempre Ossia di cambiare Come rigorista Ronaldo E non Neymar Perché mi fa triggerare Con quella rincorsa Da ebbere Molto bene Perfetto E nulla ragazzoni miei Come al solito Per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Fatemi sapere se proverete Anche voi questo modulo Se già lo usavate Con qualità attica Eccetera eccetera Con un bel commento Vi ricordo un like Cose che mi servono Iscrivetevi anche al canale Che stiamo andando una bomba Vi ricordo che sono live Ogni giorno sulla piattaforma Viola Trovate tutte le info In descrizione E nulla ragazzi A me non resta che salutarvi E augurarvi una buona giornata Ciao ciao